Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono Anna oggi siamo sul video di warmax.io quindi possiamo già cominciare allora intanto sperando che non la vi una persona che si chiama warmax.io speriamo di morire subito ma quante persone con mia stella skin hanno mi preso sono tanto furba io bravo tizio bravo oh stavo per andare a sbattere no dai no ho fatto so con i punti perché devo morire così stupidamente oh i miei punti no non sono i miei punti che cavolo sta facendo si però anch'io però sono un po stupida eh la verità si bene giudoppio aspettate Kuko ho visto i punti no però mi sa che meglio non prenderli no 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 scusi signore volevo rubarti i punti ma mi sa che no ok eh non posso mi dispiace scusi signore gatta il primo posto c'ha tipo 18.919 punti ma cosa come è possibile stupido gatto comunque questo video non so quanto durerà perché questo gioco alla fine non si fa tanto quindi però si aspettate che vado a prendere quello che mi piace molto questo no mio eh me lo vuoi rubare la verità ce l'ho chiamato prima te l'ho rubato però vedo questo anche quindi quando mi uccidono tolgo dei punti altre persone che mi vogliono uccidere eh non mi rubare i punti ah ce l'ho presa io madonna oh punti 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 ah cosa è successo punti punti madonna maria cosa significa quello che ho detto a si tocco di punti 1396 ah sono bravi facciamo altre due tre partite poi potrei chiudere il video vediamo se riesco a fare un bel record però ma questo qui è passato fa 3.000 morti e poi non aveva neanche preso i punti perché se l'altro li ho visto però vabbè ok la 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 no miei 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 no dai che ho ucciso una persona super potente no dai però potevo prendere un sacco di potenti miei 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 non mi lasci dentro il puto amico mi lascio ok ah non mi volevi prendere non non appareda no 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 NON 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 C'è Perché? C'è Perché? Ci siamo suicidati da soli Ci siamo tipo, non so, morti da tutti insieme Boh Non lo so Comunque non so quanto sia durato questo video sinceramente Perché non me lo fa vedere naturalmente Però spero che questo video vi sia piaciuto Se vi lasciate un like, commentate e condividete Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao Ciao